Come nelle previsioni, il Ministero dello Sviluppo Economico ha scelto il piano industriale della LCV per voltare pagina nell'annosa vertenza dell'ex OM Carrelli di Modugno. Scartato, il piano proposto dalla Sandretto, che avrebbe voluto invece produrre presse per la stampa di materiale plastico. Nella fabbrica, che sarà ceduta al Fondo Americano grazie anche all'intervento di Invitalia, saranno prodotte automobili di fascia C. La produzione coinvolge anche il sito di Gioia Tauro. C'è un impegno da parte del Governo e delle Regioni a finanziare questo investimento. Parliamo di un'attività di circa 80 milioni di euro. Negli anni è previsto un piano assunzionale di 1.400 persone addirittura. Sarà realizzata, costruita l'automobile del futuro. All'incontro conclusivo al Ministero e alla presenza del Ministro Guidi, il neopresidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, che è la vertenza OM, aveva cominciato a seguirla quando era sindaco di Bari. Oggi si apre una speranza che ci dà ottimismo, ma evidentemente non deve neanche provocare illusioni. perché c'è la possibilità di implementare per la prima volta nella storia industriale della città di Bari e dell'area industriale di Bari una fabbrica che produca un'autovettura. L'ipotesi che abbiamo firmato oggi in avvio è la fabbrica che funziona e che riassume tutti i dipendenti dell'OM. C'è da navigare ancora un mare molto periglioso, pieno di insidie e ovviamente di incognite. I 196 lavoratori attualmente in mobilità verranno riassorbiti entro giugno 2016. Per la produzione di auto invece bisognerà aspettare qualche anno.